Meghan Markle e il principe Harry hanno posato per un'edizione speciale della rivista Time avvolti in gioielli scintillanti dopo essere stati nominati tra le 100 persone più influenti al mondo Meghan Markle e il principe Harry hanno posato in un numero di Time 100 indossando una collezione di bellissimi gioielli raffinati, che ammontava a 384 mila dollari. Sono stati nominati come una delle persone più influenti al mondo perché, in un mondo in cui tutti hanno un'opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa hanno compassione per le persone che non conoscono, l'articolo scrive. Tra il suo anello di fidanzamento da 350 mila dollari, l'orologio Cartier di Diana e il braccialetto d'amore Cartier indossa due anelli duet pinki del marchio di gioielli chiffon, un gioiello speciale e mai visto prima per onorare l'occasione. Il delicato anello a spirale si trova sul suo mignolo e ha due diamanti sulla parte superiore della spirale, uno più grande e uno più piccolo, e costano 525 dollari ciascuno circa 380 sterline. L'anello è realizzato in oro 14 carati e i diamanti hanno una dimensione di 2,5 mm e una purezza S12 graduata. Schiffon è un che promuove. L'emancipazione femminile e questo anello in particolare è stato progettato per rappresentare due donne che si incontrano, simboleggiate dai due diamanti posizionati uno accanto all'altro. La società afferma che sta finanziando le donne, un anello da mignolo alla volta e, investendo il 50% di tutti i profitti dall'anello nell'imprenditoria femminile, è stata in grado di supportare 11 aziende. Secondo il Global Entrepreneurship Monitor, Schiffon sta cercando di chiudere il limite di genere nell'imprenditorialità, per cui la proprietà aziendale tra le donne si attesta al 5,3% in Europa e al 5,7% in Nord America, e a livello globale, un terzo in meno di donne possiede un'impresa rispetto agli uomini. Attraverso i nostri sforzi, miriamo a dare potere finanziario a un milione di donne in tutto il mondo entro il 2025, afferma Schiffon sul loro sito web. Ispirati dall'amore per la gioielleria, qualcosa in cui spesso le donne investono, volevamo che la gioielleria tornasse a investire nelle donne.